Ciao ragazzi, benvenuti su Castium Drums. Oggi voglio spiegarvi un aspetto fondamentale per i batteristi che mi chiedete molto 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 spesso. Sto parlando delle ghost notes, soprattutto sul rullante. Ghost notes, che cosa vuol dire? Ghost notes significa una nota suonata molto 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 piano. Ghost proprio perché è nota fantasma, quindi che deve esserci ma non si deve sentire, tra virgolette. Le ghost sono una cosa super super mega importante per i batteristi e per la musica in realtà, perché ci permettono di dare un feeling diverso e un feeling migliore molto spesso a un qualsiasi groove. Il problema qual è? Il problema è che le ghost non sono così facili da fare bene, diciamo, non sono così facili da fare piano, nel modo giusto, e quindi sono qua oggi per spiegarvi tutto quello che dovete sapere però comunque voglio spiegarvi alcuni esercizi fondamentali per riuscire a mettere a posto le vostre ghost, in modo tale che poi voi possiate andare a suonare un qualsiasi groove ed essere super fighi, senza rischiare di dire, boh, quella ghost l'ho fatta sbagliata e quindi ho incasinato tutto il groove perché non funzionava, non era precisa, era troppo forte, era troppo forte, tutti questi problemi. Oggi andiamo a eliminarli. Quindi io mando la sigla e poi partiamo. Ok, molto bene, partiamo da un groove semplice. Oggi voglio farvi vedere su un groove semplice che è questo groove qua. Gli esercizi, tutti gli esercizi che ci servono per riuscire a fare le ghost nel modo migliore. Allora, prima cosa, le ghost come le dobbiamo fare? Perché, avete visto, io ho dato il backbeat, cioè il colpo forte, sul 2 su 4 nel mio groove. E questo può essere un colpo dato con il rimshot o senza rimshot. È uguale, non preoccupiamoci troppo di questa cosa. Quando però andiamo a fare delle ghost, non possiamo fare un colpo come se fosse un colpo forte e poi alla fine cercare di suonare piano perché è troppo difficile. Il modo migliore per fare le ghost è partire con la bacchetta già vicina alla pelle. Quindi c'è chi dice un centimetro, due centimetri, eccetera, dalla pelle. Più o meno, secondo me, devono essere due dita dalla pelle. In questo modo qua. Così, se voi date un colpo, sarà per forza piano. Perché, ovviamente, non riusciamo a dare un colpo così forte da questa altezza. Quindi non rischieremo di fare le ghost troppo forti. Vi consiglio, in generale, quando dovete studiare le ghost e gli accenti, mescolare accenti e ghost insieme, di farlo sul rullante. Non fatelo su pad perché su pad si può fare ma vi aiuta un po' di più il pad, vi fa sentire di più la differenza tra ghost e accenti. Mentre sul rullante, se fate le ghost troppo forti, sentite che cosa succede. Faccio un po' di accenti e un po' di ghost. La differenza è minima. Io, effettivamente, quando dovevo tirare sulla bacchetta per fare l'accento, era molto più su rispetto alle ghost, ma alla fine, quello che si sentiva era un po' tutto piatto. Sentite se mantengo gli accenti in questo modo, ma le ghost le vado a fare in questo modo, quindi partendo da due dita di distanza dalla pelle. Sentite che è completamente diverso il suono. Si sentono bene gli accenti e si sentono queste ghost che sono veramente fantasma adesso. Noi sentiamo pa, 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 pa e sotto c'è tutta una questione di tappeto, diciamo, di note suonate molto più piano. Oggi non voglio spiegarvi le ghost sui fill, ad esempio, come potrebbe essere questo. Voglio spiegarvele sui groove, ma questa doveva essere un inizio per riuscire a capire quanto lasciare come distanza tra la bacchetta e la pelle quando vogliamo fare una ghost. Quindi, capite la distanza, andiamo a vedere gli esercizi per quanto riguarda il groove. Quello che, secondo me, è da fare è capire quali sono le difficoltà delle ghost. Perché è vero che c'è una difficoltà iniziale nel capire quanto fare forte quella ghost, ma poi c'è un problema proprio di riuscire a mischiare le ghost insieme ai colpi forti di rullante. Perché ogni tanto dovremmo fare il colpo forte sul 2 su 4, ogni tanto dovremmo andare a mettere delle ghost, quindi molto più piano. Secondo me un esercizio perfetto è quello di andare a posizionare la mia ghost in ogni sedicesimo possibile, parlando di una quartina di sedicesimi. Quindi io se ho una quartina di sedicesimi, senza stare a fare troppa teoria, ma vabbè, ho 4 sedicesimi. Quindi io la posso posizionare sul primo, sul secondo, sul terzo o sul quarto sedicesimo. Ognuno di questi sedicesimi ha un problema diverso. E quindi è per questo che voglio posizionarla su tutti e quattro. Vi spiego. Partiamo dal primo. Allora, il primo ha due problemi, già. Cioè, se noi pensiamo al primo colpo della quartina di sedicesimi, è quello che in pratica è il metronomo. Come se avessimo un metronomo noi dobbiamo suonare la nostra ghost sul metronomo. Quindi avremo la cassa che deve suonare insieme alla ghost. E qua ci sono due problemi. Il primo di precisione. Perché la ghost e la cassa devono essere perfettamente insieme, non questo. Perché se no, non funziona. Seconda cosa, io con la cassa dovrò suonare forte, mentre con la mia mano sinistra, in questo caso la mia mano debole che fa la ghost, dovrò suonare piano. Quindi anche qua due altri devono fare due dinamiche diverse. Questa alla fine è coordinazione. Quindi sul mio primo colpo avrò cassa e ghost insieme. Sull'altro uno della quartina di sedicesimo, invece, avrò il mio backbeat. Quindi il backbeat vince sempre sulla ghost. Quindi se voi avete ghost e backbeat nello stesso punto, farete backbeat. Quindi, in pratica, le mie ghost dovrò andare a farle sempre sulla cassa, in questo caso. Partiamo con il nostro groove, prima senza ghost e poi con la ghost sulla cassa. Questo sembra una cavolata, ma in realtà è molto difficile. Capiterà spesso, man mano che andrete avanti nei groove, di dover fare delle ghost insieme alla cassa. Quindi dovrete essere perfettamente lì, cioè perfettamente precisi. Ocio perché non è così semplice. Andando avanti, arriviamo al secondo colpo di sedicesimo. Quindi il secondo colpo di sedicesimo, che problema ha? Ha il problema che nel momento in cui io vado a fare il backbeat sul 2 sul 4, subito dopo il backbeat, avrò un colpo piano, che è la ghost. Quindi vi faccio vedere l'esercizio e poi vi spiego. Ovviamente questa ghost deve esserci anche subito dopo la cassa, perché facciamo tutti i secondi sedicesimi di ogni quartina. In pratica qua, per quanto riguarda la cassa e subito dopo la ghost, non è un grosso problema. Ma quando dobbiamo fare backbeat e poi colpo piano, noi dobbiamo andare a suonare il backbeat forte, ma poi non tornare su con la bacchetta, ma lasciare la bacchetta a quelle due dita dalla pelle per essere subito pronti a fare la ghost. Faccio il colpo, rimango con la bacchetta giù e poi faccio la ghost. Vi consiglio all'inizio di fare tanto questo esercizio solo con la vostra mano debole, quindi colpo forte e colpo piano. Non fatelo subito, velocissimo, ma capite bene quali sono i movimenti da fare. È fondamentale il fatto di rimanere giù con la bacchetta dopo che date il vostro colpo di rimshot, di non rimshot, ma comunque il vostro accento. Andiamo avanti, terzo colpo di terzina, terzo colpo di quartina. Questo forse è quello un pochettino più semplice, perché è come se andassimo a fare il secondo ottavo, parlassimo di ottavi. La difficoltà qua è che dovremmo essere insieme al nostro charleston. Quindi se prima avevamo messo cassa e ghost insieme, c'era anche il charleston già prima, ma vabbè, se prima avevamo messo cassa e ghost insieme, quindi per gli unisoni, qui mettiamo le due mani insieme. Ovviamente il backbeat c'è sempre. Questo è una tipologia di groove che non viene quasi mai utilizzata, è un po' sottovalutata. In realtà è molto utilizzata, si usano tanto e aiutano tanto il groove, quindi non sottovalutate anche questo terzo esercizio. Il quarto invece sarà il quarto colpo nei sedicesimi. Questo è forse quello più difficile, perché se nel secondo colpo avevamo accento e poi subito ghost, in questo colpo qua avremo prima la ghost e poi l'accento, quindi noi dovremo partire con la nostra bacchetta molto vicino alla pelle per dare la ghost, dopo che diamo la ghost dovremo salire per dare l'accento sul 2 e sul 4. Quindi ovviamente questo quarto colpo lo daremo sempre, non solo quando dovremo suonare subito troppo rullante, anche quando dovremo suonare subito dopo la cassa, ma questa cosa è un pochettino più semplice. qui ci viene in aiuto la Müller, non sto a spiegarvela perché dovrei fare un altro video all'interno del video e soprattutto ho già fatto un video sulla Müller, quindi vi lascio sotto in descrizione il video sulla Müller, così capite bene qual è il movimento che faccio, soprattutto col gomito in realtà, quando vado a suonare questa tipologia di colpo. Ghost accento. Quindi la cosa è questa qua, avete il pdf scaricabile qui sotto, avete tutto tranquilli? Ovviamente la cosa è che poi sperimentate anche voi, nel senso io ho deciso di darvi questi primi quattro esercizi, ma poi cercate pian pianino di costruirvene di nuovi, quindi di andare a mettere magari questi esercizi insieme, ad esempio che ne so, un groove che potrei fare è quello di mettere una quartina di sedicesimo come Ghost e cambiarla sempre, quindi cambiarla ogni quarto, quindi andare a fare nella mia battuta, prima il primo colpo di quartina, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, verrebbe una cosa così. Ovviamente con le ultime Ghost che sono perché io sto facendo alla fine della quarta battuta il quarto colpo come Ghost e all'inizio della battuta invece sto facendo il primo colpo di Ghost, quindi faccio prima quarto, poi primo e quindi vado a suonare le due Ghost vicine. Quindi questo poi ovviamente potete andare a mettere più Ghost una dopo l'altra, quindi mettere due Ghost, ad esempio tutte su secondo e terzo colpo. Queste sono tutte cose che potete fare tranquillamente, ma solo se avete studiato bene i primi quattro colpi di cui vi ho parlato oggi. Per questo ho voluto parlarvi di questi quattro colpi e non ho voluto andare a mettere cose troppo difficili, troppe note eccetera, perché la cosa importante e soprattutto tutte le possibilità di colpo che avete, le avete riassunte in questi quattro primi esercizi che vi ho fatto. Tutto il resto saranno questi quattro esercizi messi assieme in modi diversi. Quindi io con questo spero di esservi stato d'aiuto. Se magari stavate cercando un modo per riuscire a fare le vostre Ghost nella maniera corretta, per farle precise, per farle col suono giusto e tutte cose, lasciate un like qui sotto se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale, mi raccomando perché so che tanti di voi si iscrivono, anzi no, non è vero, tanti di voi guardano i miei video ma non si iscrivono e non so come spiegarvi questa cosa. Quindi iscrivetevi mi raccomando così rimanete anche aggiornati di tutto quello che esce e di tutto quello che faccio. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua, scaricate il PDF mi raccomando e basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!